Edifici intelligenti, tecnologie per costruire il futuro. Questo il titolo di un altro workshop torinese organizzato da Action Group in collaborazione con la Fondazione dell'Ordine Architetti di Torino. Il 5 dicembre 2013, presso il Centro Congressi Torino Incontra. Un'occasione di informazione, business e aggiornamento sono stati riconosciuti ai partecipanti sei crediti formativi dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Torino. La nostra è una società che distribuisce e applica pellicole per vetri, pellicole a protezione solare e pellicole per la protezione della sicurezza. Oggi presentiamo le pellicole a risparmio energetico. La pellicola scherma l'irraggiamento solare che arriva l'estate attraverso il vetro e protegge l'ambiente dal caldo. Così soprattutto negli ambienti dove sono presenti vetrocamera e vetro a risparmio energetico, quindi bassi emessivi, tutto il caldo contenuto nell'ambiente normalmente crea effetto serra. Con la pellicola si permette di non lasciare entrare il caldo. Un'ultima considerazione, cosa rappresenta questo tipo di manifestazione per un'azienda che comunque ha anche una realtà torinese e piemontese? È un momento importante per incontrare tutti i progettisti che lavorano sulla progettazione di ambienti e per contenere il consumo di energia elettrica che serve per affettare l'ambiente l'estate.